A missione delle prove questa mattina al Tribunale di Pescara. Si tratta del processo ad Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Feniello è accusato di aver violato, oltre un anno fa, i sigilli giudiziari apposti allo scopo di delimitare l'area del disastro. L'uomo inizialmente era stato condannato a pagare una multa di 4.550 euro, decisione alla quale si è opposto col sostegno dei suoi avvocati. L'udienza è stata ora aggiornata al 16 aprile prossimo. Feniello ha sempre dichiarato che si era recato dove erano le macerie per portare i fiori lì dove suo figlio è stato ucciso. «Questa è una pagliacciata», ha affermato l'imputato. «Se verrò condannato non tirerò fuori un euro e piuttosto mi farò il carcere». La moglie dell'uomo, che è stata prosciolta dall'ossessoreato, davanti al Tribunale aveva con sé delle manette e ha minacciato di incatenarsi.